Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11, a causa di un incidente avvenuto al chilometro 6 e che ha coinvolto due vetture, si sono formati tre chilometri di coda in direzione Firenze, tra Prato Ovest e il Bivio per l'A1. Sulla A1 in direzione Bologna, per traffico intenso, ci sono code a tratti tra il Bivio di Firenze Nord e il Bivio per la variante di Valico. Sulla A12, per lavori, è chiuso il tratto tra Rosignano Marittimo e l'allacciamento per la statale 1 Aurelia, in direzione Rosignano. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze in Prunita. Ricordiamo l'obbligo di dotazioni invernali a bordo, catene da neve o pneumatici stagionali. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!